Ciao a tutti, sono Raul e benvenuti su un video e come se avete sentito l'opertina, oggi parlo di Astro Bot e di Success Squad e in generale di Rocksteady Questi sono i prezzi di Astro Bot, l'ho scoperto, o meglio, beh, spero già che oggi il 7 c'era il preordine, il preordine Mi è arrivata la notifica dell'app PS, oppure sono a prendere e accende la play, viene questa notifica, comunque, appena visto il prezzo, ero sconvolto, ero tipo, per quel motivo, un prezzo così alto, però comunque il prezzo è in linea con Sackboy Perciò altri giochi della play, i prezzi sono gli stessi di Sackboy, Crash Bandicoot e così via, perciò i prezzi sono in linea con altri giochi del genere sulla play Però, ripeto, mentalmente, per me, sono i 40-50 non li spendo per il gioco, nel senso, è stesso discorso per Assassin's Clank che sta a 80 a prezzo pieno Per me, un gioco del genere, più di 40-50 è un no Inoltre, Razet può essere giocato tramite il PS Plus Extra o Premium Extra In giro di tre giorni ho il platino, perciò, nel senso, ho preso il platino E, ora, il gioco uscirà il 6 settembre di quest'anno, il 24 E, non so perché, ma i blog della play inglese, in un modo, e poi, e poi altrove, e in un altro, 4 settembre, basta Non c'è neanche il numero, la data, che è strano Comunque, questo qua, sette, vabbè, sette sogni, no, ma, sette, eh, i proordini, però, gioca il 6 settembre E, comunque, ci sono, sono tre versioni, la standard, il disco, che include, eh, il disco, include, eh, anche questo, questo poster, questo qua Eh, che include, varie cose, che guardo Un postrino, che alla fine è, di base, è il, eh, per chi ha giocato Astro Playroom sulla play 5, è giocato Se avete la 5 e non, e non, e non avete giocato Non, non, boh, non vi capisco Poi se la gente dice, è per i bambini Ma che vuol dire per i bambini Senso, ormai, ora Un conto è dire più di tot Per un genere Ci può pure stare Lo capisco E' un discorso che faccio anch'io da un lato Però vedere un gioco del genere Dire E per i bambini A quel punto Senza un buono Non capisco O è gente Nata dopo E perciò gioie del genere Neanche ne considera Oppure ne considera Poco Li vede ancora C'è gente Ancora 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 Cosa che si In parte è così Però comunque In genere Comunque la maggior parte La gente gioca ai giochi E' gente E' gente Superventi Perciò I bambini I giochi di dono Sono stati grazie a Amari Apparenti O A genitori Oppure Ai genitori Se no Probabilmente i giochi A parte la curiosità Probabilmente Comunque Ora La standard Eh La stand Ora La deluxe Adison E' la standard Adison normale Soltanto Che da quello Colletto A parte La una sonora E gli avatar Le skin Sono Sblocchi Anticipati Sono sblocchi Anticipati Perciò Se come Spider-Man In quanto In preordine Tolto Qualche costume In cui Realmente E' Soltanto Per E' Soprè E' Soprè Per Per La deluxe Il resto Stumi Sono cose Che sblocchi In anticipo Tipo Tipo Spider-Man Miles La track suit Quella bianca E rossa Sblocchi Anticipa Sblocchi Cioè La video È già lì Però Di suo Devi sblocchi Però Devi sblocchi Mare Tipo Spare 1 Pelle 4 Non è sotto Ho preso La normale E Roba Che era Come Prone Anticipa Sbloccato Lo sblocchi Prima Lì Ma Lo sblocchi Qualche Qualche Ora Vai in giro A fare Side Questa A sbloccare I punti Per Fare La Sosa Perciò Quanto Anche Quanto Sblocchi Sblocchi Lì Ero Lox Perciò Sblocchi L'anticipo Perciò Sono due cose O Realmente Un vero E proprio Sblocco Anticipato Delle skin Di Bloodborne Barparappa E Emozione Dorata Oppure È Roba O È Roba Gratuita Sblocchi L'anticipo Cosa A volte Accade Anche Perché Hanno Detto Che Annetto Che È Un Gioco Classico Fatto E Finito Perciò Non Ha Nessun Tipo Di Roba Aparamento Roba Aggiuntiva Se Saranno Roba Aparamento In Più Sera Come Sackboy Ovvero Costumi Costumi Gratuiti In Più Extra Extra Più Avanti Comunque Sera I Comparamenti Yarnam Perciò Bloodborne Oro E Poi Cosa Parappa Queste Sono alcuni Gif Gif Nel Corso Nel Skin Nel Skin Questa Non Male Carino I Giò Mi Interesse E Quello Mi Blocca E Il Prezzo Una Cosa Che Un Po Non So Metalmente Ora Il Gioco Abra Tipo 80 Livelli Minimo Perciò Ma Dico 80 Perché Mimo Perché Ok Ho Andate Leveli Però Metti Caso 80 Quindi Normale Poi Sono Livelli Segreti Un Po Mari Come Fatto Per Playroom In Cui Hanno Aggiunto Delle Sfide In Cui A Astro Playroom Il Giò Base Ha Il Giò Base Tipo Non Sono Quanti Il Giò Base Ha Un Tot Di Livelli E Poi Hanno Aggiunto In Seguito Dei 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 Lavelli Speedrun Cosa Pochi Minuti Che Finisce In Giuri Po Secondi Con Speedrun Pronti Perciò Le Cosi Extradi Più Volendo Lo Non Interessa Il Presso Nessun Obbligo Lo Sita Perciò Interralmente Black Friday ovunque sconti di natale probabilmente andrà in sconto a 50 pezzo ora io spero joven da bene perché bisogna senti interessa alcuni feedback proteggente se fra chi giochi sembra il prezzo dato comunque mi interessa un po uno perché mi interessa e poi per rimanere un segnale a questi sono giochi che vanno bene gioie gioie ci piacciono però gioie del genere molti ne hanno comprati tipo rassette classe spy così via a prezzi sconto comunque inferiori perché nel senso io vado qua astro sta a 70 grazie grazie sta a 80 euro standard ogni 90 la deluxe ora a un progetto genere o a parte che risulta c'è l'extra consiglio di giocarlo tramite i pesi post extra una spende cos'è tipo tra i 15 15 e 20 euro in tre giorni non finissi e poi platino finissi la finissi c'è 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 un giorno ho messo in totale ora giocata però comunque senso nel giro di possessioni anche da sera basta il corso senso il gioco ottimo e valido è un gioco ottimo però prezzo pieno è un no totale in sconto sono ne comprarlo come se io e gioco un carlo però sapendo la durata così via poi mentalmente più di forza tesori io non gli spendo è un fatto di genere prezzo così via per ora si mi interessa quant'altro però comunque l'altra roba è questa far sacbo e sacbo anche questo gioco tramite il ps plus e l'extra ora in sconto a 30 buon prezzo con detto su una pazienza pian piano mi sono anche va anche qua un avvento ps plus era la giocata mi piace post essential ero conflitto per non pure no l'avvento per i giocatori aprendo era l'intro alla scienza poi l'anno messo anche l'intro all'extra comunque a comprarlo a 30 ora il per sacboi per sbloccare l'ultimo mondo di sacboi ci vuole un po di pazienza perciò è tipo un mondo segreto e in più perché ecco per sbloccare ora il mondo normale non è complicato fase 8 però se non vuole arrivare a sbloccare l'ultimo mondo di sacbo deve un po questo non mi ha fatto perché sono fuori testa le sfide sbloccare l'ultimo mondo di sacboi non è complicato poi richiede di rifare alcuni livelli sbloccare tot sbloccare l'ultimo mondo che richiede di produzione qualcosa di punti di bolle quella era un consiglio male però che hai un po di pazienza buongiorno quanto permesso a più di tot perciò 70 80 ottimo gioco contato consiglio divertente però più di tot è un troppo è un fatto di un fatto mentale perché ancora ancora molto gente ma anche in parte c'è disegni la socia un certo prezzo è più di quello è un problema mentale che mi interessa l'impressione blocca e non ho già fatto per tesori poi a fine poi ho preso mi sono arreso o ho preso in sconto tipo gelda l'ho preso a fine mi sono arreso e l'ho comprato a parte a parte a preso in sconto per the wild ho preso in sconto no per troppo in sconto gelda minwaka hd comunque a questo l'interno per sconto in negozio a trattare atti sono arreso o dormia ne so in negozio prendere alcune cose nintendo è il prezzo è quello è fine perciò sembra in sconto sono rimasto ma nel sconto 10 20 euro comunque passando a e passando a su da squadre attualmente il prezzo sta a 32 non so perché perché quei due tre euro in più so perché un passare tipo 30 era un prezzo ottimo quei due euro due tre euro in più mentalmente non so non so ma me ha fastidio comunque a vedere 32 è un passo essere 35 comunque ora lo prendere qua perché sta a 32 in negozio ho visto che sta a 40 se in sconto comunque perciò 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 risparmerei anche se magari con il disco sì anche se con il disco siete stufi e lo porto indietro al fine però comunque già mi interessa avvengers e ne ho giocato avvengers mi ha giocato era posto a me ha giocato i problemi comunque mi era divertito senso era apposta mi sono divertito senso a me ha sapere di grande in parte non però sbilanziamento però ha dei premi un po in fatto che sono un livello anche se a livello altro impersonato così via c'è trove comunque a solo offline è cosa molto complicata se non per dire molto spesso è impossibile da fare da solo non so se si serve sono attivi hanno detto che i server erano ancora attivi un po non so se sono attivi comunque nel senso ancora squadra che vera appunto votare di essere come vende sembra nel senso o lo compri e ora o prima che parla l'ompri prima sparisca o devi prendere il disco qualche parte perché sennò non giochi comunque fai mostrano cose poi mostrano articolo ora in breve è questo scrive ha fatto articolo riguardo sul fatto che il fatto che il gioco per mone bros a parto quando stessa ha affermato barbara 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 un fermato del fatto che è che sono flop in quanto comunque sanzione attiva c'è eccetera e c'è un supporto scarso il minimo per andare avanti il gioco per quattro mese personalmente dopo sono tra queste tre tre gruppi tre team in quanto uno si occupa di questa diretta scott riedizione non so che serva di overslash da poco hanno pubblicato un'update con i photomode e dei fix vari e hanno aggiunto hanno aggiunto dato a tutti quanti alcune cose che erano soltanto per il preordine e la missione e la missione di oxmode e la missione di oxmode e la missione di oxmode a tutti quanti che non sono sulla play è stata la mia cosa fanno con stati ecco scott ma non so delle aree aggiuntive perché gioco a dei luoghi vuoti diretto scott ora giusto dimettiamo mi sono interventiato immagino che sia soltanto il suo completo che la fine è la versione dell'ox e dark arch di sono la parte in cui se il gioco base senza c'è un dlc che include un'area di combattimento nelle sfide extra legate alle legate alla magia scura a parte quello bisogno di roba come genere io giusto il giusto e saprei cinque a sbagliare il senso ovo su quel gioco non è male qualcuno a finirlo c'è sta è un posto sotto fatto dell'inizio ho fatto fatto ecco 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 su me il gioco e il giorno di essere il giorno non riesce a finirlo o comunque non ha rotto un tot prende o se avete veramente intenzione di disarci perché io quando l'ho comprato fate questo quando il gioco l'ho giocato su pc e il piratato era posto mi stavo divertendo appena aperto la mappa appena aperto la mappa ho detto no basta chiudo poi gioco perché in parte ora mappa si è grande quant'altro però non è se non fare solo la storia parte world è più un modo per la b e basta mare si deve fare delle sai questi in quanto sai questo obbligatorio tipo ottieni questa magia facendo totte sconfiggi lupi e così via poi vai dalla la prof e sblocca l'incantesimo eccetera comunque il giusto mood di farlo anche perché il fatto che c'è quello se quello finalmente bloccato ho detto all'inizio no prendo basta una pausa lo trovo quando ho veramente voglia perché io a volte la vita a volte sono nel giusto mood di attività sono mai sono buoni rischi di abbandonarli infatti ho detto aperto la mappa detto no perché in parte da colpa a da colpa in parte a a science kid che ballalla era enorme e dopo ballalla è un po' un po' stessa cosa però di sì ma ballalla ma anche accentuato che su uno passa da quei giochi che hanno mappe enormi in basso l'altro sapevo che era open world ma non ho appena mappa grande senza giusta cosa ho avuto l'altro sapevo ho aggiungato poi ho aggiungato di più ho aggiungato e lì sono in paranoia detto no è a posto ma comunque perché mappa in giusta dimensione è troppo grande senza un media poi aggiungo di più come dire vabbè in fondo di sinopoli l'app a risa in due tre tre arei parte superiore che è hoaxmaid e dintorni e il castello possa parte in fondo la parte in fondo mappa che non è troppo troppo lungo però se una mappa vede santo c'è comunque questo prezzo per 32 euro il prezzo sembra buono lo riprende però prima voglio vedere cosa fanno al sommet in fest di stasera alle 23 e vediamo cosa annuncia anche se fanno il numero riguardo lega oraison e altro varia vediamo se fanno in base in base con l'annuncio e i prezzi squad forse lo prendo più avanti nel suo presconto ovviamente fra la fine di 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 gotham knights che ho giocato ho finito parla volte pc piratato e poi su ps plus gotham knight alla fine ha avuto problemi però alla fine era posto stesso discorso se non lo sa cosa va incontro mentalmente preparato quant'altro il gioco comunque ha avuto problemi contatto comunque è apposto senso gotham knight ci ripeto gotham è quello che è senso è apposto senso ho fatto la serie basta però c'ho un video sul canale ho fatto la trama le gioco ho fatto poi sai ho fatto tutte le altre sai questo nel gioco come quelle possibile a fare il resto è riguardo a fare sai cosa intendo sai cosa hanno che fare un missioni normali in quanto a missioni normali però missioni normali eccetera però ecco è un punto in cui il gioco apposta però ecco se inizia a fare certe roba vai fuori di testa perché soltanto sblocca l'ho trovato ecco questo è questo qua questo questo qua è semplice però stesso tempo è pesante ovvero richiede di sbloccare l'abilità planata o quello che è per ogni personaggio che si fa comunque basta è un problema però se inizia a fare e con gli altri la cosa inizia a essere un po' problemata infatti solo qua qua sulle squad squad trofei ecco nel trofei che realmente un po mi preoccupano in quanto non sono obbligato a farli però è un po' una cosa di ottenere qualcosa un po di più dal gioco dove sta maestro e la parte di raggiungere il livello maestria venti così via a parte quella di roba superflua quanto dove sta dove stava l'ho trovato a qualche parte ecco raggiunge il livello massimo con tutti i personaggi che non sono obbligato a farlo però se mai vuoi sbloccare delle abilità particolari se comunque sono stretta a farlo come avengers 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 tra le leggende non ce li ha c'è la c'è la c'è la man è un altro modo però ecco in ogni caso tra vendesse c'era tipo se vuoi sbloccare un un costume particolare o un certo tipo di abilità particolare in cui devi soffrire devi riferire se senti osi in continuo non so obbligato però se vuoi un certo tipo di abilità particolare specifica devi fare il grande quello è abbastanza particolare comunque come detto prima hanno un team che si occupa della parte della stessa edizione di augurts hanno messo xstadia a fare un nuovo gioco offline un nuovo gioco vecchio stile loro perciò vi mostro qua dall'articolo e comunque c'è un supporto minimo quanto basta in piedi gioco qua l'articolo di bloomberg di stryer che in breve dove sta l'ho tradotto qua dove sta trovato l'ho messo prima dove sta qualcosa comunque c'è cercate di attivare di bloomberg c'è c'è il tweet di israel dove sta dove sta non lo trovo comunque come detto un team fa il la remaster quello che è comunque la director scott di Hogwarts uno si occupa di nuovo gioco single player poi altri si occupano del gioco della squad di di gioco league che parte qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua trovato 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 questo è uno ma il fatto che in breve hanno trovato un modo tale che i boss erano buoni ma stesso tempo sufficienti a poter c'è 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 un bilanzamento tra la componente tra parte storia normale la parte live servizio sono tirato un ibrido che è così così perciò è il fatto di avere la storia in un modo ma deve avere un gameplay fatto un altro perciò è un po un casino un po come vendita la vendita la parte sincopi la parte storia le missioni legate ai personaggi erano a posto però approcciano delle missioni in cui era chiaramente fatto pensavo per i co-op perciò c'è un momento in cui il gioco di passare è un gioco piacevole a un gioco che resta lì tipo perché è così perché vabbè è a posto però i momenti in cui eri ero tipo mi sta piacendo mi diverto ma domenica in cui tipo qua riesco di impazzire perché fra di più tranquillo a scelta e al numero di persone giocanti e basta però a un punto era talmente troppo a schermo che dice qui è fatto per il corpo non hanno bilanzo va bene infatti tutto quanto poterà fuori testa e poi infine l'ultima cosa questa fa che dopo dopo la puntata dopo l'azione 2 gli update saranno molto più ridotti perciò il numero avrebbe dal 2000 almeno per quest'anno 24 minimo quando ha altro update come minimo però eccessivamente dalla st dall'azione 2 del gioco perciò fine giugno inizio luglio probabilmente in tutto non io che chiuderanno però ovviamente che cosa franno quanto meno update quanto va e questo va e è tradotto è automatico comunque mi ha usato fun senso ma chiudo qua senso io spero che qualche cosa salvino perciò comunque con minimo prima della chiusura mettono realmente la parte offline come hanno fatto per redpool senso redpool il studio è chiuso però alla fine hanno comunque messo la parte offline per chi voleva un fatto sacchio qua alla prossima e ciao